bello e bentornati su real napoli football ragazzi siamo a 29 punti dalla divisione 2 proveremo a prendercela in questa partita non sarà assolutamente facile perché il sistema potrebbe accoppiarci con una bestia di satana comunque detto ciò vediamo chi ci capita e come sempre se vi fa piacere lasciate un like al video iscrivetevi al canale, commentate e fammi sapere che ne pensate quello che sarebbe andato a vedere vediamo chi ci capita, vediamo che cosa succederà mamma mia barcellona napoli ragazzi barcellona napoli per questa diciamo partita che potrebbe valere la divisione 2 vediamo 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 intanto giocheremo senza natani che ha deciso di non giocare più a pallone ostigard fortunatamente sta sempre bene e quindi lo mettiamo in campo leo ostigard anche per questa partita il nostro avversario gioca con una fantastica difesa 5 porca puttana fantastica difesa 5 del nostro avversario male così bruttale come cazzo si fa a giocare la difesa 5? aiuto aiuto mamma mia fai cam no una partita che si giocherà tra un paio di settimane difesa 3 a 5 si inverta in esterno inizia così poi vedi tu ok vabbè vedo un po' e poi casama l'inverto non ci ho pensato ma è sciolata se ti mette servono i cross vabbè comunque prova a partire subito forte il barcellona attacca attenzione cavara schella proviamo a recuperare bravissimo ostigard e cavara schella si gira cavara cavara schella dentro per vittorosimen che appoggia zieliski che si gira zieliski che tira la parata la parata del portiere che non so chi è se la sono case l'ha cavata qui il barcellona attenzione palla dentro lo bocca dentro per anghissa cerca poi zieliski che va verso cavara schella si gira cavara schella gran giocata cavara cavara schella per zieliski passiamo subito con pietro zieliski passiamo subito con pietro zieliski 1 a 0 partiamo forte attenzione ah le tacche vabbè no ok lobo zieliski è meretto a posto osimen svetta fuori gioco ma sarà che sto pompato per il napoli si è risvegliato fate il doping efficienza ma ma sei l'attenzione zieliski gran ricordo palla alto cavara schella si gira fallo su cavara bene me l'hanno dato il fallo ottimo allora togliamo la tacca torniamo equilibrati lo bocca rilancio lungo verso vittorosimani che può spizzarla per politano che non riesce ad anticipare di marco attenzione lo bocca bell'anticipo zieliski appoggia mario rue clarità zieliski clarità quara schella la vorrebbe dare a mario rue in realtà va bene grande ostegard ancora per rue che cerca zieliski che si gira la perde brutta brutta peccato ancora lo bo con l'anticipo non so che cosa ho fatto qua lo bocca rosimani zieliski dentro per vittor no capigliato capigliato che risponde a una buona conclusione bravo l'estremo difensore eh lo sai non mi ricordo zieliski attenzione dentro per raccomani che prova a metterla dentro mario rue rosimani di rapina vittorosimani di rapina cazzo chi ha fatto l'assist anghissà forse anghissà anghissà attenzione palla dentro raccomani prova ad allargare per cavara schelia si ferma cavara schelia vede dentro zieliski era una bella palla di cavara qui eh attenzione lo bocca devo caricare le cuffie porca puttana si gira qui non so chi tiro merettera inzaghi attenzione prova di lorenzo a chiudere rimessa dal fondo ecco qua fi in carica rimessa dal fondo per alex meret che rilancia lungo verso victorosimani che vede politano prova a dargliela gliela dà a matteo politano matteo politano devi scendela da dentro per victor anticipato dal difensore anghissà ancora recupero palla per anghissà politano dribbling di politano che se ne va matteo politano matteo politano troppo egoista qui matteo raccomani mamma mia ce la capiamo anghissà brutta palla di raccomani qui ma zedischi recupera palla palla per caraschelia rallenta troppo caracqua prova a ripartire craif chiusura di di lorenzo qui leggiamo bene la situazione la palla resta lì esce lo botta e mario lui palla per caraschelia che prova ad andare lungo verso victorosimani che è in fuorigioco che è in fuorigioco veramente di un nulla se c'era ragazzi veramente di un nulla magari yes prova a ripartire il barcellona attenzione palla dentro di lorenzo chiude tutto raccomani anghissà palla per caraschelia che appoggia zedischi che cerca mario lui scendiamo qua bene ci distendiamo alla grande mario lui prova ad alzarla male verso caraschelia secondo me brutta palla di lui lo botta zedischi anghissà dentro ancora per zedischi che se la accomoda prova a sparare non la piglia non la piglia ok calcio d'angolo come fa piacere però se mi avrebbe venito a vestire qualcuno stasera è vero diciamo quel ciolito un po' se lo meritava il gol almeno l'impegno attenzione lì zedischi palla verso raccomani che la mette dentro non arriva nessuno qua la palla prova a ripartire il bar di lorenzo lo botta mario lui raccomani anghissà palla per politano si gira politano la ridata che arriva fermato zammanghissà cara scheria prova a dare una difesa raccomani recupera palla per politano cerca dentro niente da fare lo botta o si menna ma non era fuori gioco c'era quel gesù la dai eh magari mamma mia mi servirebbe come il pane come il pane come il pane attenzione errore di bastoni zedischi prova ad alzare questa palla verso victor fermato victor roefe dentro ah osticato in chiusura poi mario lui prova ad andare da cavara scheria che si ferma e come la palla rientra cavara prova ad appoggiare per anghissà errore qui però politano palla per rosi menna dentro ancora per politano di marco fu un miracolo o si menna l'aveva pure messa dentro ma è fallo fallo di victor in realtà potrebbe uscire però è una bella carta di meretta anche se già la teniamo meretta fatti miralo con quello bot che attenzione colpisce di testa e poi si menna allarga per politano che di resta la dava si menna che prova a far correre ancora politano fa un anticipo pazzesco il difensore e poi anghissà politano dentro per zam anghissà dietro per zelischi che prova ad andare a quadraschiera troppo difficile questa azione infatti il bar sa recupera e prova a ripartire raccomani era recupero no no mamma mia Ostigard che cosa ha fatto ragazzi che cosa ha fatto Ostigard e poi lo botca mamma mia ragazzi che cosa ha fatto Ostigard messi a corcia lobo allarga verso di Lorenzo palla per politano sta attaccando bene il barcellona che ci salta ancora qui sulla pressione dentro Craif Craif eh Craif in zaghi 2 a 2 ci siamo fatti riprendere come dei polli ci siamo fatti riprendere come dei pollastri andiamo al secondo tempo proviamo ad invertire gli esterni proviamo a provare proviamo a provare bello cerchiamo di provare qualcosa di diverso Osiman lo botca allarga per Mario lui no dai Poli ma che cazzo Ostigard bella chiusura qua palla dentro per lobo che di tacco va da Ziriski che va di tacco ancora per Mario Rui che si gira Mario Rui provare ad andare dentro per Ziriski va da Politano dribbling di Politano che può crossare va di destro Politano non si sa perché Mario Rui non riesce a rimetterla dentro questa palla prova a ripartire il Barcellona Clara Schelia Messi riesce a girarla avanti attenzione palla dentro di Marco Mario Rui bella chiusura allarga per Matteo Politano cerca dentro Ziriski errore Schiappellonzo recupera palla attenzione riparte il Barcellona Mario Rui dentro per Politano che non riesce a dribblare qui attenzione Bastoni prova a ripartire il Barça Ostigard ricorda una gran palla allarga ancora per Mario Rui che c'ha un po' di campo per scendere Mario Rui appoggia per Ziriski scende Ziriski Ziriski appoggia a Mario Rui la da Politano che cerca Vittorosimena anticipato da Pavard provano a rimetterla lunga attenzione Ziriski di Lorenzo recupera palla appoggia una chissà cerca Politano Politano vede dentro Vittor ma in realtà si erano fermati tutti Lobotka errore di Lobo qui per Schiappellonzo che recupera palla che adesso prova a ricorrere Graif si gira Gizaghi tiro di Ziriski si oppone Ostigar Di Marco dentro attenzione Angissà Meret eh si brucia un pochino si vabbè attenzione Simen prova a giocare per Kvaraschelia niente la fare Messi Ziriski allarga per Kvaraschelia dentro per Vittor Simen gran palla di Kvara per Vittor scende Vittor 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 per Politano contro Pede perfetto e Matteo Politano non sbaglia qua palla magica di Kvaraschelia ragazzi palla magica di Kvaraschelia dentro attenzione e tac e tac di Gesù Mario Rui Politano provano a chiudere Costa Curta Rui bella chiusura e poi la riesce pure a spazzare attenzione Politano fa regolare palla da Kraif attenzione palla dentro Ostigard spazza le Ostigard Osimena appoggia ad Angissà che la dà Kvaraschelia si gira Kvaraschelia non riesce a tenere palla su Pavard di Lorenzo dentro per Angissà Lobotka Mario Rui Politano poggia per Zilischi la dà Politano contro vede incredibile Politano dentro la devo alzare quella palla attenzione Politano Zilischi recupero palla cerca Vittorosimena la palla resta Politano niente da fare Mario Rui per Zilischi che prova a giro carne secca Angissà regola palla su Di Lorenzo che allarga per Kvaraschelia si gira Kvaraschelia e Angissà si è fermato la volevo dare porca trota attenzione prova a ripartire il Barcellona Lobotka Zilischi Politano Osimena non riesce a ritagliare Politano riparte il Barça attenzione qui prova a tornare Angissà Di Lorenzo dentro il Barcellona con Osticard la palla resta lì incredibile calcio d'angolo e lo so fra me la tolgo ma fa qualche cagno sicuramente allora 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 l'instrom prima ha giocato bene lo rimettiamo Politano è distrutto e lo tolgo Matteo lo tolgo Matteo perché stanco sta on fire ma è troppo stanco lo tolgo anche lui no non lo posso togliere gli esterni restano quelli che stavano cagliuste ma ci sono solo meno inserimento ti dici l'esterno ti dici Olivera intendi non ho capito che intendi zambolo lo tolgo no no ah li devo invertire dici così vabbè dai eh penso va bene così va bene così sì sì andiamo la tolgo la tolgo attenzione calcio ad angolo palla dentro fuori tanto il vertito l'istrom è chissà così che cazzo di cane vabbè meret rilancio lungo di Alex meret verso Simen che però prendere posizione gira per lei chiacciarla in porta attenzione Lobotka l'istrom per Raspaduri l'istrom ancora Mario lui appoggia per Giacomino Raspaduri che prova a girarsi viene fermato Giacomino prova a ripartire il Barca ma ancora Lobotka palla per l'istrom dentro però Simen appoggia per Mario lui che cerca proprio Victor non era male l'idea attenzione lui adesso deve recuperare osticarbe Lobotka palla per Anghissa che allarga proprio per Mario lui Mario lui cerca Vittor Simen si gira Vittor dall'altro lato fermato qui da Pavard molto bene va là dentro grandissimo anticipo di Giannino Di Lorenzo che prova a scendere Di Lorenzo prende campo Di Lorenzo scende Di Lorenzo cerca l'istrom per Simen che si gira secondo me c'è un po' di fallo attenzione l'istrom cerca Caraschelia ancora l'istrom vada Anghissa che cerca Politano non lo so tieno aspetta si mette Anghissa sto ubriacando male Pien attenzione Anghissa si ubriaca qui il Barcellona Osimene dietro per l'istrom vada Raspadori che prova a giro la parata di carne secche partita finita ragazzi partita finita e finisce qui ragazzi finisce qui finisce qui grande vittoria 3 a 2 a Camnou bene 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 così ragazzi bene 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 così grande vittoria vai io e saliamo a 1501 punti che significa divisione 2 ce l'abbiamo fatto Grazie.